E prima di continuare con i nostri videoclip delle stati passate di queste e di questa estate andiamo a dare la linea alla nostra Alison che come sempre ci farà ascoltare e vedere un videoclip che parla dell'inglese, un videoclip inglese ovviamente insomma lei essendo di Londra e non può fare, prego potete passare, ognuno fa che vuole, non è che è una cosa, prego vieni con me Com'è tutto a posto? Vai a bere? No no vado solo un attimo in là, va bene ok, bene Alison a te la parola Amore amore amore, parlo in generale no? Forse si manca solo questa per una stati perfetta Ci sono tante canzoni che parlano d'amore ma nessuna sarebbe più perfetta per parlare di un'avventura estiva di questa che stiamo per sentire Era una delle tante canzoni di grande successo del film Grease che è uscita nel 1978 e parlava dell'anno 1959 quando Danny Zuko e Sandy Olsen, due ragazzi da due mondi diversi, si ritrovavano a scuola insieme dopo una stati amorosa, parlano della loro esperienza con i propri amici vedendo le cose da due punto di vista, vista molto a posto Divertitevi guardando i video molto carina di Olivia Newton-John e John Travolta con Summer Nights Grazie! Grazie! Grazie a tutti.